Era uno degli incontri un po' di cartello. La partita si è risolta al nono minuto del primo tempo con questo gol di Argujaev della Dinamo di Mosca, il gol con cui i sovietici hanno vinto. E qui vediamo un bel intervento del portiere della Dinamo che salva il risultato. Partita risolta 1-0 quindi partita ancora estremamente incerta per quanto riguarderà il retour match. Ed eccoci alla vittoria del Bayern.